complimenti per il libro che hai scritto perché comunque estremamente interessante e potete dire che è un libro che serviva fosse scritto in questo libro tu affronti tantissimi temi che sono storici sociologici di attualità in alcune parti addirittura è anche autobiografico comunque contestuali di sia il punto di vista storico che tuo personale e nelle librerie sono messo in scaffali diversa ad esempio da feltrinelli sta sotto lo scaffale sociologia mentre da mondadori sta sotto storia e attualità tu dove lo metteresti se potessi scegliere questo tuo libro e perché io lo collocherei proprio entrambi gli scomparti diciamo perché nel libro tratto sia del razzismo dal punto di vista storico facendo un excursus proprio del colonialismo italiano quindi per analizzare le radici di questo razzismo nei confronti in questo caso di persone afrodiscendenti che radici storiche ma anche c'è anche una versione di che riguarda proprio l'attualità quindi il razzismo come si è evoluto e come si trasforma di continuo oggi al giorno di oggi perché comunque vediamo che nell'attualità il razzismo si manifesta in tantissimi modi dal punto di vista cioè partiamo dalla politica fino ad arrivare alla vita di tutti i giorni e di conseguenza penso che entrambi gli scomparti cioè entrambe le sezioni storia e sociologia siano comunque giuste come definizioni in quanto appunto cercato di analizzare il razzismo dal punto di vista storico quindi il colonialismo italiano come è stato visto il corpo nero come è stato trattato durante il colonialismo italiano e comunque sia come il razzismo di oggi si manifesta di continuo su persone razzializzate di ogni etnia in questo libro in particolare studio nei confronti di persone afrodiscendenti che siano comunque italiane in italia oppure che siano c'è insomma persone afrodiscendenti in Italia oppure anche persone straniere o migranti sostanzialmente quindi abbiamo diverse categorie di persone ma tutte comunque in un modo o nell'altro vittima di un sistema che li veda appunto proprio come corpi estranei ancora ok infatti la seconda domanda era sul titolo no sul titolo tu non metti un soggetto no volutamente esatto chiami corpi estranei già un po' hai anticipato la prossima domanda che era chi sono questi corpi estranei certo allora corpi estranei ho titolato così perché si tratta appunto a mio parere di persone chiaramente che però non vengono visti come soggetti politici che fanno parte appunto della realtà del tessuto sociale italiano e soprattutto dei soggetti con diritti cioè spesso si parla di migranti di italiani afrodiscendenti ma senza i diretti interessati tante volte magari ci capita nei talk show sentiamo i dibattiti sul razzismo sull'immigrazione eccetera ma non ci sono mai i protagonisti di questi dibattiti corpi estranei perché sia da questo punto di vista perché comunque si tratta sempre di persone che non prendono mai parola a cui non si dà mai voce ma anche dal punto di vista del fatto che sono corpi estranei perché se pensiamo ad esempio a quante persone ancora non vengono viste come italiane ancora non riusciamo a fare noi soli come si deve comunque abbiamo ancora una percezione del fatto che persone di etnia diverse non siano italiane corpi estranei in questo senso ma corpi estranei anche perché quando parliamo di come stavo dicendo prima di migranti per esempio abbiamo soggetti che dovrebbero avere dei diritti ma che però vengono puntualmente negati quindi pensiamo ai ghetti dei braccianti a leggi come la bossi fini che rende appunto queste persone sempre più marginalizzate sotto anche sfruttamento spesso quindi sono leggi che non permettono a queste persone di regolarizzarsi di condurre una vita serena senza vivere appunto nella nella paura comunque anche della deportazione o del fatto che si è stranieri magari senza documenti e c'è sempre anche questa cosa del reato di clandestinità che comunque assurdo in italia ma che però rende queste persone appunto come corpi estranei e appunto soggetti senza diritti quindi corpi estranei è un termine ombrello che ho voluto utilizzare per appunto parlare di queste realtà in italia che sono chiaramente da analizzare e che bisogna assolutamente di cui bisogna assolutamente parlare e finalmente riuscire in un certo senso a dare anche voce a questo tipo di di problematica quindi corpi estranei in questo in questo senso ok perfetto adesso una domanda che riguarda diciamo il contorno del libro poi siamo un po più nel nel tema ho visto che c'è un'ampia bibliografia che è usata no a prescrivere questo libro e usi sia titoli italiani che francesi inglesi eccetera la parte italiana ci sono tanti articoli e forse correggimi se sbaglio pochi testi per comunque non so se si è tratta difficoltà nel reperire fonti e che questa è una mancanza strutturale anche del discorso che tu fai no sul razzismo e anche sull'antirazzismo in italia questo è vero o no esattamente sì per quanto riguarda le fonti italiane infatti ho infatti utilizzato soprattutto notizie di cronaca per parlare di razzismo e vedere soprattutto come la cronaca parla di fatti inerenti a persone di origine straniera eh come appunto la persona nera ad esempio viene vista quando c'è il fatto di cronaca nera quindi il fatto che nel titolo stesso magari si specifica l'origine facendosi che il lettore eh pensi che comunque sia l'origine porta tal persona a commettere tal reato quindi eh abbiamo proprio un utilizzo potremmo dire del dell'etnia per far sì che avvenga poi una generalizzazione di su base etnica sostanzialmente e eh questo è uno dei punti fondamentali perché comunque appunto come dicevi c'è un problema indirente proprio alle fonti da riferire quindi anche al ai ai testi da leggere che appunto parlano di questo tipo di decostruzione importantissima da fare abbiamo una mole di libri comunque dal punto di vista quando andiamo ad analizzare soprattutto autori eh di origine francese o o del mondo anglosassone sempre afrodiscendenti ma perché forse c'è stata una maggior decostruzione chiaramente l'inghilterra e la francia hanno storie molto più eh potremmo dire che vanno molto più indietro nella storia rispetto eh all'Italia quando si parla di colonialismo però in Italia abbiamo proprio un problema un vuoto da riempire secondo me che riguarda proprio la decostruzione del razzismo in Italia cercando proprio di capire quali sono le problematiche in questo paese perché magari ci possono essere parlo dal punto di vista un afrodiscendente punti in comune con afrodiscendenti francesi inglesi o statunitensi però chiaramente poi viviamo in contesti completamente diversi secondo me è vero che manca proprio una un punto di vista diverso in Italia quindi abbiamo eh come dicevo sempre un monopolio del razzismo che di cui ne parlano solo le persone appunto bianche eh senza avere un punto di vista diverso e questo è un problema sicuramente e infatti ho notato anch'io che quando scrivevo questo libro mi mancavano fonti m per analizzare dal punto di vista anche magari di libri in questo senso per analizzare il razzismo in modo molto più approfondito ho trovato molte più notizie di cronaca per spiegare cosa vuol dire essere cosa vuol dire subire comunque razzismo sistemico esempio che faceva proprio il modo in cui si parla di di cronaca quando ci sono afrodiscendenti quindi pensiamo a senegalese stupra donna senegalese diventa il punto focale non si parla di macismo patriarcato violenza di genere ma si parla di senegalese quindi se il senegalese stupra è perché se è senegalese se l'italiano stupra è perché lei lo ha provocato quindi c'è sempre anche questo tipo di dicotomia no che si ha e questo è emblematico potremmo dire proprio dal giornalismo italiano che abbiamo che rappresenta appunto il razzismo sistemico anche da questo punto di vista ok l'aspetto bello del libro secondo me è che non le mangi a dire no nel senso che critica a destra e come anche dici tu è semplice farla no soprattutto l'ambiente sinistra perché comunque c'è anche un diciamo un'esposizione razzista stupida ma tu comunque non le mandi a dire neanche neanche a sinistra perché comunque fai tanti esempi giustissimi di di antirazzismo di parli anche a un certo punto di volontalento parli di privilegio bianco che comunque è in situ anche in molti settori da sinistra anche il linguaggio adottato alcuni esempi poco prima esattamente e credo poi lo dice anche tu che comunque questa questo tipo di approccio che abbia anche prodotto delle contestazioni perché poi comunque molti che stanno in questo campo di sì ma io faccio altre cose sì ma io esatto e quindi spiegaci un po meglio questo punto di vista molto anche il discorso del privilegio bianco certo allora come dicevi chiaramente a questo problema cioè è facile criticare la destra in quanto capisci che il razzismo è palese si palesa subito cioè non ci vuole nulla dire che una persona razzista quando dice si affondiamo i barconi si chiudiamo i porti oppure quando c'è stato per esempio l'attentato di luca tra inia macerata nei confronti di persone di origine africana quindi questi sono esempi eclatanti di razzismo e soprattutto sono gli apici potremmo dire del razzismo ma prima di arrivare a quello c'è tutto un sostrato di cose di cui bisogna parlare e che bisogna appunto decostruire e il problema secondo me proprio questo è che dirsi non razzisti è molto semplice perché quando hai esempi estremi la persona che magari dice io non faccio così allora automaticamente mi escludo da quello che appunto mi appare appunto come razzismo come nei fatti appunto di cronaca che ho spiegato però il discorso è questo che il razzismo purtroppo è molto più complesso a decifrare non è soltanto la definizione monolitica che abbiamo sul dizionario ma è una questione che riguarda strutture si è una questione dal punto di vista chiaramente strutturale sociale ma anche dal punto di vista come diceva appunto il privilegio bianco perché il momento in cui tu sei una persona bianca e sei di sinistra anche se di sinistra in un contesto a maggioranza bianca comunque tu hai una condizione di privilegio rispetto a una persona razzializzata che magari ha avuto per esempio il tuo stesso percorso di vita eppure magari quel tratto somatico diverso già garantisce una una discriminazione perché magari anche se tu sei persona antirazzista di sinistra magari quando vai a cercare un appartamento la persona ti vede sei bianco sì va bene ti accetto magari io sono italiana però sono nera parla al telefono con quello che magari mi vuole dare l'appartamento in affitto mi vede poi di persona mi dice no guarda non pensavo che tu fossi così quindi privilegio anche in questo senso cioè che la persona si deve rendere conto che proprio la sua condizione di essere bianca in un contesto a maggioranza bianca è già un vantaggio quindi è quello che mi viene contestato è questo però privilegio tu indichi cioè come se tu indicessi che allora una persona bianca non può essere povera allora no non è questo il discorso cioè è chiaro che la condizione economica è un'altra cosa da analizzare e di conseguenza il privilegio di cui si parla non è il privilegio dal punto di vista economico ma un privilegio che purtroppo è in sito proprio nell'ambiente occidentale in europa perché comunque tutto partito da qui cioè tutto si modella secondo quello che è l'eurocentrismo potremmo dire sia dal punto di vista culturale storico che dal punto di vista anche del razzismo cioè è anche alla fine la definizione di razzismo è anche anche questa derivazione potremmo dire culturalmente europea però non ci basta con la definizione lì cioè non basta dire discriminazione su base di sesso razza religioni eccetera eccetera è molto più complesso perché poi quando nella vita di tutti i giorni la persona la vita che comunque vive una donna nera in italia per esempio presenta tantissime sfumature ed è un tipo di razzismo che spesso non viene analizzato e che la persona che non subisce queste cose che può essere di sinistra ad esempio non può capire e la cosa che io ho trovato è che praticamente è proprio questa persona di sinistra la prima a dirti quanto si esagerata e ma non è vero io sono perfetto di qua e di là senza rendersi conto che magari essendo nato in una cultura in un contesto culturale simile non ha mai analizzato magari di abbia scognitivi razzisti pregiudizi che magari ha ma a cui non ha mai pensato perché perché fino a questo momento la persona pensava che il razzismo fosse soltanto quando io per esempio picco una persona soltanto perché nera è più complesso di così e per esempio uno degli esempi lampanti è purtroppo quello che abbiamo poi nel mondo della cooperazione internazionale perché dico questo perché il tipo di narrazione che si fa di continuo quando si parla di anche di migranti ma soprattutto quando parliamo per esempio di minori il fatto che una persona si dica di sinistra antirazzista e poi la prima occasione comincia a farsi le foto per il per per instagram per i live di instagram con i bambini neri presi nei loro viaggi internazionali che tipo di messaggio dai che tipo di metodo utilizzi no per parlare del lavoro che vuoi fare quindi si sta ci si sta muovendo anche moltissimo da questo punto di vista per una nuova comunicazione anche dal punto di vista della cooperazione internazionale però è un problema questo perché comunque abbiamo tante persone che magari non in modo maligno magari magari nemmeno ci pensano però perfettano dei comportamenti che sono tutt'altro che antirazzisti ma perfettano una visione potremmo dire anche spesso pietistica infantilizzante del corpo nero in questo caso di minori ma anche di adulti quindi è come se la persona nera il migrante che vediamo è come se fosse un soggetto che chiaramente in quel momento ha bisogno di diritti e di aiuto nel primo momento in cui magari sbarca in un porto e ha bisogno di 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 beni di prima necessità però tu non devi vedere come un bambino come una persona che non capisce e secondo me spesso c'è questo atteggiamento no che io arrivo io a ti salvo io ma non è questo il discorso cioè si tratta di persone soggetti con i diritti soggetti pensanti che hanno un loro pensiero una loro volontà una loro insomma sono soggetti autonomi indipendenti il problema poi è tutto il contorno del razzismo strutturale delle leggi che abbiamo ma secondo me bisogna proprio togliersi questi prosciutti che siano negli occhi cercare di vedere la persona migrante come una persona che è esattamente come tutti gli altri cioè con un cervello con un pensiero e che è appunto una persona indipendente e spesso secondo me non c'è questa cosa quindi da un lato tu hai chi dice chiudiamo i porti ci rubano il lavoro dall'altra è una versione a sì poverini comunque bisogna siamo tutti uguali anche lì siamo tutti uguali verissimo siamo tutti esseri umani però dopo nella realtà è così veramente cioè come si analizza da questo punto di vista e infatti concludendo anche un altro discorso tipico di sinistra è questo siamo tutti uguali però dal punto di vista reale purtroppo il razzismo deve essere secondo me diciamo ripreso come discorso riprendere il discorso di razza a livello sociale decostruirlo quindi un lavorone grosso e poi capire quali sono le problematiche da questo punto di vista perché se no perché purtroppo siamo tutti uguali ma non siamo tutti uguali purtroppo nella realtà quindi bisogna cercare di mettersi in gioco chiedersi se davvero si è antirazzisti sul serio e ascoltare soprattutto la minoranza quando parla di terminato dinamico questi aspetti sul libro sono molto ben evidenziati e chiari e fa sempre questo doppio passaggio che interessante comunque da un lato di analizzare la complessità perché comunque come tu dicevi è un momento molto complesso con tante sfumature soprattutto se pensa anche agli interlocutori però alcune volte poi serve anche un po semplificare no comunque dare dei messaggi semplici tu questa operazione fai spesso nel libro ed è interessante no e quindi è un aspetto secondo me di più interessante hai parlato anche adesso anche prima di della bossa i fini no in italia abbiamo una diciamo un doppio codice penale la legge non è uguale per tutti perché abbiamo due due codici penali uno per gli italiani nati in italia e l'altro invece per magari per i migranti che è il testo unico per l'immigrazione che deriva dalla bossa i fini e che è stato ampiamente peggiorato prima con i decreti minniti orlando e poi con i decreti salvini e siccome tu parli anche di queste cose sul libro che è anche un tema di attualità recentemente c'è stata una diciamo riforma del del codice salvini voluta dall'attuale governo che molti hanno salutato no come una una grande vittoria però è così secondo te no anche qua abbiamo sempre quello che chiama antirazzismo performativo no tipico della sinistra che appena perché quando passa al peggio è facile poi secondo me farsi belli perché basta un attimo mettere una toppa su qualcosa secondo me e subito gridiamo all'umanità restaurata in realtà secondo me non è così certo sicuramente il fatto che è stata reintrodotta una protezione speciale no è importante questo perché prima con il decreto salvini è stata tolta l'umanitaria adesso è stata reintrodotta un minimo di decenza potremmo dire per cui le persone dopo il decreto salvini sono ritrovate praticamente per strada disperse senza più centri di accoglienza ma era era un bel una situazione davvero insostenibile con persone che si ritrovavano appunto senza più centro di accoglienza adesso chiaramente con il nuovo sistema SAI sai se non erro eh chiaramente sono state reintrodotte nuove misure a sostegno dei migranti però eh abbiamo un impianto per esempio che crimine continua a criminalizzare l'ONG per esempio quindi anche se le multe sono state abbassate rispetto al decreto salvini eh comunque abbiamo un impianto che eh criminalizza potremmo dire il soccorso in mare e questo è molto sbagliato specie eh perché va contro chiaramente anche le le convenzioni di base internazionali sul salvataggio in mare e poi portare le persone in un porto sicuro secondo me non è una rivoluzione anche perché dal punto di vista poi ehm tecnico materiale non cambia quasi nulla per i migranti cioè pensiamo anche al fatto che gli accordi come la Libia con la Libia rimangono lì eh come possiamo definire questo come svolta eh quando appunto abbiamo politiche migratorie ancora molto molto vecchie e che non non puntano comunque a un'apertura e a una ehm potremmo dire mobilitazione internazionale che sia davvero per tutti e non per pochi privilegiati perché fondamentalmente i sistemi per entrare in Italia sono pari a zero cioè con la boss di fine appunto tu devi avere conoscere già paradossalmente una persona che è in Italia e fare in modo che questa persona in Italia assuma te che ti trovi ancora magari nel paese d'origine e quindi che incentivo ha sia chi magari ti vuole assumere e chi sta dall'altra parte del mondo che senso ha questa legge cioè si vede che è una legge che è fatta proprio per chiudere le frontiere no per aprirle ed è una legge che spesso eh appunto diciamo eh incastra tantissimi migranti uomini e donne in un circolo vizioso che li costringe in una condizione di irregolarità spesso perché il contatto di lavoro è legato al permesso di soggiorno e se perdi il lavoro che succede poi quindi è questo il il problema e senza chiaramente permesso di soggiorno non puoi avere il lavoro è un circolo vizioso allucinante fatto apposta per come la vedo io per non far sì che appunto le persone siano inizioni incluse nel sessuto sociale italiano e questo è uno sbaglio quindi io non vedo eh questa eh questo cambiamento come una svolta sicuramente torniamo a quel minimo di decenza con un sistema di protezione che è stato un pochino ristorato per i migranti ma secondo me prima di parlare di svolta c'è moltissimo da fare come per esempio cancellare la bossa di fini fare uno io soli serio esteso eh e appunto applicare politiche migratorie migratorie giuste che siano non di eh fronterizzazione ma più che altro di apertura il problema però è che non è un problema solo italiano è un problema europeo perché se pensiamo all'Unione Europea stessa purtroppo abbiamo un sistema securitario in generale un sistema basato su come si dice sulla eh esternalizzazione esternalizzazione delle frontiere su cui praticamente facciamo accordi con paesi terzi per contenere i trussi migratori ma questo non funziona sia perché viola i diritti umani e l'abbiamo visto con la Libia sia perché alla lunga le migrazioni comunque continuano e eh tu non puoi pensare di bloccare tutti quanti quindi o liberalizzi visti facciamo sì che finalmente la burocrazia europea sia buona e giusta per tutti quanti oppure non c'è altra soluzione continuiamo a violare i diritti umani e ci diventiamo dall'altra parte perché poi ci troviamo casi come Moria come in Grecia che appunto le persone continuano ad essere stipati in questi hotspot adesso ho visto anche video del nuovo campo proprio di me peggio di prima le persone stanno lì nel nelle tende al freddo senza alcun tipo di bene di prima necessità quindi come 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 possiamo continuare così come si pensa che si può continuare così eppure cioè si continua ecco abbiamo avuto quindi questo tipo di eh modifica ma denominarla come ripristinata l'umanità e i decreti di Salvini non esistono più non è vero secondo me è un'ipocrisia perché purtroppo ci troviamo un sistema migratorio eh che è molto molto vecchio e che non non guarda futuro secondo me c'è c'è tantissima disuguaglianza al punto di vista sociale e anche dal punto di vista comunque di mobilità internazionale che rimane essere per pochi perché comunque come dico sempre se tu nasci in Europa e hai un passaporto di un paese europeo vai dove ti pare se nasci in Nigeria in Sudan in Ghana mh difficilmente difficilmente te ne vai dove ti pare senza poi chiedere senza un visto per esempio basta vedere anche le statistiche su ho riportato sul libro anche il Global Passport Index che appunto proprio ti mette in in lista tutti i passaporti più potenti e guarda caso quelli dei paesi africani per esempio sono gli ultimi posti quindi non puoi andare da nessuna parte quindi come dopo fai la fai la domanda ma perché non migrano legalmente perché non posso migrare legalmente c'ho le possibilità no è questo il problema quindi se non sistemiamo queste cose come possiamo andare avanti? nei decreti di cui parlavi c'è un altro punto che tocca il tuo libro che è quello dell'italianità no? perché nel decreto Salvini poi comunque non è stato modificato questo punto si dice che se tu fai un reato gravissimo quindi hai un reato di terrorismo io ti tolgo la cittadinanza che dal punto di vista puramente normativo è un'assurdità perché cioè questo però tutte tutte le fondamenta di questo principio si trovano nel tuo libro no? perché comunque significa che se tu mi puoi togliere la cittadinanza italiana vuol dire che non mi riconoscerai mai del tutto italiano e appunto quando tu parli di italianità no? di cosa parli? certo di cosa parlo in realtà è complicato questo cercato di spiegare anche in questo in questo libro perché è chiaro che definirsi italiani magari ti viene facile nel momento in cui tu nasci o cresci in un paese specifico magari e non vedi magari anche o non torni nel tuo paese di origine o magari ci torni però tu vivi la tua vita qua e non hai insomma vivi la tua vita qua cresci qua fai la scuola qua io sentirmi italiana mi sono sempre sentita tale però italiana in che senso cioè come come si misura l'italianità cioè in base a quanta pasta mangiamo in base a quanti non lo so a quanto parlo bene l'italiano però è difficile secondo me definirlo davvero perché magari il nazionalista ti dice è l'inno di Mamelli le tradizioni la chiesa cattolica eccetera eccetera però è più complicato di così soprattutto oggi in un mondo davvero globalizzato dal punto di vista anche culturale in cui guardiamo serie tv in inglese quindi voglio dire è davvero complesso il discorso è che chiaramente parlare di italianità è complesso ma è più una questione secondo me meramente di documenti il fatto che comunque il tuo compagno di banco con cui cresci si e con cui cresci è italiano di sangue per lo io sanguinis e magari può e non rinnova un permesso di soggiorno per vivere crescere in italia mentre mentre io oppure un'altra persona di origine straniera deve farlo già questo comunque stabilisce una disparità hai due persone magari nate in italia ma che non vengono trattate come come pari sostanzialmente perché tu siccome hai il sangue italiano non devi magari rinnovare il permesso di soggiorno io invece sì per stare in un paese in cui sono nata o cresciuta che senso ha già si stabilisce una disparità allucinante secondo me e poi questo comporta anche dei problemi perché come ho riportato non è vero come dicono alcuni che basta aspettare diciotto anni ci sono tantissimi problemi pensiamo ad esempio a quello che fece la sindaca di lodi nei confronti di bambini di origine straniera nella scuola dicendo siccome voi non ci portate documenti per la dichiarazione di redditi che sono difficilissimo comunque da recuperare dal paese origine allora voi non potete stare a mensa perché i vostri genitori devono portare questo certificato eccetera tante volte si è visto come tantissime madri di questi ragazzini o bambini della scuola ehm scuola materna o elementare adesso non mi ricordo bene ma comunque sia facevano difficoltà a recuperare questi documenti perché la burocrazia è allucinante sia sia in italia che magari anche nel paese di origine nel frattempo però è stata stabilita una discriminazione palese tra i bambini di origine straniera comunque italiani che non potevano andare a mensa usufruire dei servizi scolastici pubblici e i bambini italiani si per una questione di sangue ed è una cosa veramente allucinante questa quindi non è vero che non ci sono problemi e che basta aspettare 18 anni in realtà questo comporta tantissimi problemi per tantissimi bambini e ragazzi anche ormai cresciuti che ancora lottano contro una burocrazia che veramente allucinante non è vero che basta aspettare perché comunque c'è anche da pagare di avere un reddito particolare quindi la cittadinanza diventa non più un diritto ma qualcosa di elitario di privilegio quindi devi anche avere i soldi per averla di avere un reddito che devi mantenere e devi anche combattere con una burocrazia che aspetti due anni tre anni per le procedure eccetera e non è facile per niente quindi si crea una disparità abissale tra chi italiano di sangue e chi non lo è ed è veramente secondo me una barbarie davvero una cosa antica vecchia proprio basare la cittadinanza sul sangue c'è una cosa veramente allucinante non ha il minimo senso si crea una disparità perché cosa alla fine eppure continuiamo a mantenere questo tipo di legge qua ti fa arrivare un cambiamento effettivo ed è un problema e poi anche lì ho scritto anche lì no adesso si parla di usculture anche come come alternativa io penso che possa essere tra giusto soli temperato usculture un passo in avanti importanti importante però anche lì cioè si può basare soltanto sulla cultura e poi se la famiglia perché c'è anche i cinque anni no di scuola eccetera però non so se sia limitante cioè io sarei per uno solo universale basta cioè per chi nasce cresce qua senza tanti distinzioni non capisco quale quale sia il senso perché cultura in che senso anche qua come la definiamola la cultura anche quello lì in termine complesso ripeto il nazionalista dice sì no di devi sapere l'inno di mammalia memoria ti devi facere che ne so dante ma non è che non ci si può fermare qua è molto più complesso di così un'altra domanda tu parli cioè comunque stai nelle marche e hai vissuto due episodi stato molto gravi di cronaca no uno quello relativo a a traini che possiamo dire che poi non stato così definito dalla stampa però il vero primo atto di terrorismo in italia e anche l'omicidio di emanuel no abbiamo avuto due pesi due misure per entrambi i fatti di cronaca gravissimi abbiamo oggi l'omicidio di di emanuel libero ha scontato diciamo pochissimo tempo in carcere e traini salutato quasi come un eroe e da qualcuno chiaramente e questo tu studiando anche macerata no oltre che mi sembra che ha cambiato qualcosa oppure è rimasto tutto come prima non è cambiato niente fondamentalmente nel senso che io vedo allora già il fatto che nel 2018 traini appunto è stato visto anche la questione è stata trattata in modo molto superficiale secondo me perché comunque è stata proprio un vero proprio attentato di matrice fascista e la cosa è stata buttata in cacciara dicendo gli italiani disperati e le emigrazioni comunque la colpa era sempre stata anche secondo i giornali dei migranti che erano lì perché gli italiani sono esasperati non c'è stata secondo me proprio un'analisi di quello che è successo e soprattutto di nuovo i corpi appunto i soggetti principali sono diventati di nuovo corpi estranei perché nessuno ha poi parlato più di tanto di chi è stato colpito si è parlato più di nuovo di luca traini importantissimo che è in modo comunque molto brutto molto banale ma non c'è mai stata un'attenzione rivolta nei confronti di tutte le persone nere in italia direi perché questo è stato un atto di odio di razzismo di fascismo a livelli esorbitanti sì dopo c'è stata chiaramente la manifestazione macerata importantissima bellissima e tutto però mi chiedo se ci sia mai stata un'analisi fondamentale su quello che è successo infatti il fatto che ci siamo dimenticati subito così secondo me cioè non è che se ne parla più di tanto è un problema perché non analizziamo bene quello che è successo soprattutto io penso che non c'era mai stata nemmeno un'analisi su quello che hanno provato le persone nere in italia in quel momento a macerata ma in italia direi perché comunque io in quel momento io non ero lì quel giorno fortunatamente ero a casa mia ma mia madre mi ricordo che mi disse tu pensi sei lì che testo di lì che appunto cosa sarebbe successo cioè è stato un trauma per me è stato un trauma una cosa allucinante e a questo non ha pensato nessuno nessuno se ne fregava altamente di quello che significava anche dal punto di vista psicologico potremmo dire delle persone nere in quel momento stessa cosa vale per emanuel cdi nam di cioè non c'è alcun tipo di attenzione di nuovo a questo a questi a questi episodi che magari vengono riparati come episodi di cronaca poi cadono comunque nel dimenticatoio cioè non se ne parla più è stato un episodio quello lì magari che ha ucciso il nero era un pazzo perché tanto se si dice sempre così e poi finisce cade tutto nel vuoto non c'è mai quella analisi che ci porta avanti per capire il tipo di problema che abbiamo chiaramente questi sono sempre gli apici potremmo dire del razzismo ma non c'è mai un'analisi seria su queste cose qua ed è un problema è proprio un sintomo del fatto che secondo me l'italia proprio non all'italia mi interessa finivamente se non può analizzare queste cose non ci siamo arrivati proprio siamo a una fase davvero embrionale secondo me di quello che significa analizzare il razzismo qualcosa è nato potremmo di una scintilla quando è successo appunto quando sono accaduti i fatti nei stati uniti con george floyd però anche lì un po sporadica la cosa abbiamo manifestato ma poi si va avanti di cosa parliamo insomma poi chiaramente adesso si parla soprattutto della pandemia quindi le notizie sono diverse però secondo me l'analisi del razzismo serio non c'è mai stato in questo paese e secondo me da luca traini non credo sia cambiato qualcosa perché purtroppo non c'è alcun tipo di attenzione di analisi seria ripeto è tutto caduto nel dimenticatoio cioè nel senso no sono molto pessimista in questo purtroppo ha colpito tutti penso quel quel quell'evento lì nel 2018 ancora ci penso però ce ne siamo dimenticati così non è che c'è stata un'analisi successiva secondo me sì infatti sono d'accordo su questo e citare anche gli stati uniti no diciamo l'italia beh chiaramente siamo molto indietro sull'analisi del razzismo su di costruire tutti i nostri concetti riguardo all'africa riguardo anche il nostro passato coloniale secondo te altri paesi invece come sono messi come gli stati uniti la francia sono diciamo quelli che più viviamo più da vicino su certi argomenti sì allora sicuramente il razzismo sistemico evidente sia nei stati uniti che in francia quindi c'è presente il discorso secondo me è che chiaramente magari la minoranza cioè le minoranze etniche che abbiamo lì magari sono il maggior numero rispetto alle minoranze in italia nel senso che hai magari un maggior fermento di dal punto di vista culturale di persone io penso ad assa tra ore fatale sorella di adama tra ore che è stata una importantissima attivista in francia il fratello ucciso dalla polizia ma anche in iniziati uniti abbiamo comunque una storia di diritti civili di movimenti di afroamericani che sono davvero di importanza storica e di conseguenza abbiamo maggiore più fonti per analizzarlo anche se il razzismo sistemico comunque rimane e non è che anche con l'edizione di omama qualcosa sia cambiato purtroppo è stato un fatto importantissimo il fatto che è stato primo presidente nero ma comunque un sistemico rimane però sicuramente secondo me c'è un'evoluzione diversa quindi abbiamo molti tant'è che io stessa anche per il libro dovuto andare a ripescare angela davis per dire quindi ci abbiamo ci sono delle pietre miliari potremmo dire dell'antirazzismo in altri paesi in francia pensiamo a messer o pensiamo anche a un france fanon tutte queste cose così quindi abbiamo degli elementi importanti in italia però non è che abbiamo queste magari queste figure di riferimento a cui attingere no quindi la cosa nasce adesso cioè praticamente praticamente parliamo del razzismo sistemico adesso in italia prima non c'era niente secondo me il discorso è che se un george floyd il fatto che sia stato ucciso un afroamericano dalla polizia ha scatenato tutto questo tutte le proteste in europa in italia significa che secondo me fino adesso in italia forse la gente non si è resa conto che purtroppo abbiamo avuto tantissimi casi di razzismo in italia ma ci è toccato appunto andare a vedere quello che è successo all'altra parte dell'oceano per renderci conto del razzismo sistemico in italia da qui poi ti rendi conto che effettivamente magari la gente non è così a parte che siamo sempre secondo me un po esterofili anche con le battaglie degli altri però comunque sia non ci rendiamo conto di quello che abbiamo qua e dei problemi che abbiamo qua quindi importantissimo che ci siano state tantissime manifestazioni ben venga però voglio dire anche lì finito tutto lì addirittura ho visto che la cosa è stata resa molto come trend influencer italiani che non hanno mai parlato di razzismo in vita loro hanno pubblicato il riquadro nero quel giorno si chiamava black out tuesday un trend così su instagram si sono fatti vedere a milano nelle manifesto influencer che non hanno mai parlato di niente capito quindi ti fa capire come la cosa sia più vista come un trend poi quando vede dai stati uniti allora è figo capito fa figo poi finisce un po tutto così ma non c'è mai di nuovo con l'analisi quel passo successivo per capire le battaglie che ci sono qui dalla vostra fine alle politiche migratorie migliori allo io soli che in italia comunque ne abbiamo anche parlato quando quando c'è stata la protesta anche in ancona per dopo gli fatti george floyd però secondo me non può finire qua la cosa perché ci sono molti problemi che bisogna analizzare che bisogna affrontare e bisogna continuare a protestare soprattutto quindi come posso c'è la differenza l'italia e gli altri paesi è che l'artismo sistemico c'è in tutti ma dal punto di vista di magari di materiale anche da leggere noi chiaramente abbiamo molto 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 meno rispetto a stati uniti e francia dove magari la controparte bianca può anche ormai cominciare può leggere può può sapere può conoscere qua invece abbiamo proprio lo zero assoluto secondo me e magari questo anche deriva forse dalla mancanza magari anche di rappresentazione anche nei talk show tutte queste cose così dibattiti pubblici secondo me manca tantissimo questo perché appunto come dicevo prima anche quando si parla di razzismo antirazzismo la maggior parte della gente bianca cioè non è che hai una probabilità di voce diversa in francia e stati uniti non è così e quindi questo è un problema e un'ultima cosa c'è io poi non credo che qua in italia abbiamo bisogno di un movimento dei neri perché la questione non riguarda soltanto i neri è più una probabilità secondo me di voci che deve farsi sentire di qualsiasi origine diversa ma che hanno tantissimi problemi in comune come la bossa e fine o lo you soli che non riguarda solo gli afrodiscendenti ma tantissime tene presenti in italia quindi questo sì sì certo chiaramente in questo libro affronti tantissimi temi quindi è anche complicato forse posso dire che uno dei primi testi che leggo che inquadra un po cioè probabilmente è stata anche diciamo la tua operazione intelligente nel senso che hai dovuto mettere tantissime cose insieme per creare anche un precedente perché questo mancava quindi e ringrazio personalmente ma penso anche altri ti ringrazieranno per aver fatto questo libro ci auguriamo che abbia un grande successo e mi permetto di dire che lo dovrebbero leggere tutti perché comunque dei punti che sono che sono molto interessanti quindi ti ringrazio bocca al lupo ci vediamo ciao